È il secondo giorno del nostro viaggio nella generazione precaria. Dopo terni oggi siamo arrivati in Ancona, dove il viaggio degli studenti si incrocerà al viaggio dei lavoratori della CGL per la loro carovana e la legalità. Saremo un'iniziativa a fincantieri all'interno del cantiere e parleremo di legalità, di appalti pubblici e di come l'istruzione può migliorare la situazione in Italia combattendo l'illegalità che permea gli strati e la società italiana.